Oggi i magazzini e aree di stoccaggio sono sempre più automatizzati, vedono la presenza sia di soluzioni di automazione robotica più tradizionali di movimentazione, sia tecnologie più innovative con l'impiego di Cobot, GV, AMR che se da un lato aiutano e sollevano gli operatori umani dalle operazioni più gravose, dall'altro sicuramente devono garantire la sicurezza e quindi poter convivere con gli operatori affiancandoli nella gestione quotidiana delle operazioni di stoccaggio e magazzinaggio e così poiché in ogni ambiente ad alto tasso di automazione la sicurezza è un tema fondamentale e scottante anche in ambito intralogistico le aziende lo devono affrontare con estrema serietà. Di questo tema che vogliamo parlare con un'azienda di riferimento nel campo dell'intralogistica come CLS che è qui rappresentata dall'ingegner Rino Melone, marketing and product manager. Buongiorno Rino, benvenuto. Buongiorno Ilaria, grazie. Dunque parliamo di sicurezza, è un tema delicato che le aziende devono affrontare con estremo pragmatismo e anche con decisione. Che cosa sta accadendo a bordo in pianto nella movimentazione intralogistica in termini di safety? Sicuramente la sicurezza all'interno dello stabilimento ricopre un ruolo fondamentale. La contemporanea presenza di mezzi all'interno di un magazzino o all'interno di un sito produttivo è sicuramente fonte di pericolo. Inoltre se oltre alle macchine sono presenti anche degli operatori il rischio aumenta ulteriormente. Ed è qui che l'automazione può contribuire a migliorare la sicurezza perché le macchine, gli AMR, gli AGV si muovono in modo autonomo per svolgere le missioni assegnate e se oggi sono in grado di comunicare, interagire tra di loro, possono garantire da una parte la massima efficienza e dall'altra massimizzare la sicurezza. Inoltre tutta la sensoristica installata a bordo della macchina permette di evitare ostacoli, di evitare collisioni, di scegliere il percorso migliore. Appunto con l'obiettivo da una parte di migliorare l'efficienza del processo, dall'altra di garantire la sicurezza all'interno del posto di lavoro. I Cobot, che sono altri dispositivi che riescono appunto a collaborare, i robot collaborativi che riescono ad operare contemporaneamente alla presenza degli operatori, sono sicuramente un altro valido ausilio per l'aumento della sicurezza. Essi sollevano gli operatori dai compiti più gravosi o comunque vanno a diminuire quelle che sono le possibilità di infortunio. Ci sono poi i magazzini automatici dove addirittura all'interno di un cubo, se così vogliamo definirlo, la merce viene movimentata e viene messa a disposizione all'uscita, a disposizione degli operatori, della produzione, di tutta la logistica. Infine, probabilmente con la simulazione, tutto questo può essere preventivamente studiato perché con la simulazione, quindi in pochi minuti può essere simulato il funzionamento di un sito produttivo, di un magazzino logistico e possono essere visualizzati i potenziali punti critici o possono essere evitati tutti quei punti dove in passato si sono avuti degli incidenti o semplicemente dei near miss. Tutto questo aiuta e contribuisce sicuramente ad innalzare il livello di sicurezza all'interno di uno stabilimento. In sintesi, possiamo dire che chi progetta e realizza sistemi di movimentazione, magazzini, è da sempre attento alla sicurezza dal momento che le macchine che lì vengono impiegate, come per esempio i trasoli elevatori nei magazzini automatici, sono potenzialmente mortali. Man mano che si eleva il livello di automazione e anche di robotizzazione di questi ambienti, la sicurezza, la safety deve evolversi di pari passo. Ricordiamoci poi che un impianto sicuro è anche più produttivo, in quanto salvaguardando gli operatori garantisce la continuità operativa. Ringrazio l'ingegner Melone per essere stato con noi. Grazie a voi. Per questa intervista è tutto, vi invito a seguire anche le prossime interviste di Automazione Oggi che tratteranno altri temi legati al mondo dell'intralogistica. Grazie e arrivederci.